Un commento sulla serata, un evento veramente bello, ricco, interessante, mi è piaciuto molto il taglio pratico che è stato dato a questo evento. È nato con una infarinatura generale, poi il livello si è alzato sempre di più fino ad arrivare alla parte tecnica finale di tutti i vari contenuti, per cui ritengo che le persone che sono state in sala si siano riuscite a portare via parecchie informazioni da utilizzare a livello pratico già domani stesso nelle proprie aziende.